Un viaggio nel tempo, dall'infanzia alla maturità, frammenti che l'autore ha saputo mettere in fila attraverso fatti, luoghi, personaggi e aneddoti. Nel leggerlo troviamo poesia, tradizione, storia, cultura, discriminazione, l'amore per le proprie radici e una vita difficile ma semplice che forse oggi siamo in molti a rimpiangere. Tutto questo racchiuso in 300 pagine dal titolo Punto e a Capo, il libro documento di Luigi Cimino, edito dell'Associazione Storica del Medio Volturno, che è stato presentato presso lo splendido auditorium delle scuole di Valle Agricola. Erano presenti al tavolo dei lavori l'autore e il suo amico di sempre, Angelo Izzo, il sindaco di Valle Agricola Rocco Lanti e il direttore responsabile di Caserta Sera. Nel parterra anche tanti colleghi, avvocati, giudici e amici di seminario, come il professor Lino Diana, che è intervenuto per un saluto e tantissima gente comune. Non ultima l'elegante e discreta consorte dell'autore, la signora Vanta Civitillo, in prima fila visibilmente commossa. Ma perché nasce l'idea di questa biografia e lo stesso autore spiegarcelo a margine della presentazione? Ho scritto questo libro per ricordo personale ai miei familiari. Era questo l'intento prima poi di tramutarlo in libro. Quando ho perso i miei familiari ho capito che bisognava divulgare tutto quello che io avevo fatto a tutti perché insegno soprattutto di positività per il futuro e per i giovani in modo particolare. Un aneddoto. Si, stetile, cur non ego, diceva Sant'Agostino, significa se questo è quello, perché non io? Si capisce da sé. Volevo appunto dimostrare a me stesso che se gli altri ci riescono ci posso di uscire anch'io. Da Valli Agricola è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.